Gorno con le sue contrade e i suoi 1800 abitanti è un paese in continuo divenire. Numerosi sono gli interventi in corso d'opera programmati dall'amministrazione comunale. Grazie ai contributi di Regione Lombardia Gorno può contare su più di un milione di euro per interventi migliorativi e di consolidamento del suo territorio. Stiamo realizzando parecchie opere sul nostro territorio, alcune di queste sono nella fase conclusiva. Abbiamo il nuovo acquedotto, l'Axolo, abbiamo ottenuto un finanziamento di 666 mila euro. Questo finanziamento si divide in 266 mila euro a fondo perduto da parte della Regione Lombardia e sul restante 400 mila euro abbiamo sottoscritto un mutuo noi come amministrazione comunale però la rata ci viene pagata da Uniacque per cui diciamo che per l'amministrazione, per i cittadini di Gorno è un acquedotto a costo zero. Purtroppo la legge ci ha così imposto di delegare ad altri la gestione degli acquedotti noi magari non ne siamo tanto convinti però abbiamo dovuto sottostare quelle che sono le normative di legge cerchiamo però con questo nuovo acquedotto di portare dell'acqua buona, dell'acqua dell'Axolo che era già utilizzata da alcuni cittadini nella parte alta del paese. Un altro intervento che stiamo realizzando è un intervento e anche questo abbiamo avuto un contributo da parte di Regione Lombardia di 480 mila euro a fondo perduto l'intervento del consolidamento del versante frannoso di Via degli Orti. È un intervento importantissimo con dei micropani si cerca di consolidare quella che è questa frana che si era così aveva presentato dei movimenti eccetera e anche perché siamo molto interessati perché sotto ci sono due frazioni molto importanti di Gorno la prima frazione è la frazione di Erdeno e sotto ancora la frazione di Viso per cui siamo molto grati alla Regione che è riuscita a darci questo contributo e tramite questo contributo riusciamo a mettere in sicurezza tutta l'area.